Festa con sconfitta, esulta la Svivalucera davanti al proprio pubblico per la birra aggiunta da una settimana, ma cede alla Dinamo Brindisi per 75 a 63. La squadra di coach Cristofaro scatta già nel secondo periodo e chiude con 5 giocatori in doppia cifra su tutti. Foucet con 19 punti, il miglior marcatore di giornata e però a costa tra i padroni di casa con 21 punti. A quota 32 intanto resta l'Adria Bari che cade a Molfetta e si fa raggiungere da Mola, reduce dalla vittoria interna contro la nuova Matteo Ticorato. Alla squadra del capoluogo, in ogni caso, basterà battere la Libertas Altamura nell'ultimo turno di stagione regolare per assicurarsi il secondo posto. La conduce dall'inizio alla fine Molfetta che vince per 85 a 67. Fattore campo rispettato anche da Mola che piega Corato per 63 a 58, ribaltando l'inerzia dell'incontro solo nell'ultimo periodo. Amigo è di lascio i cannonieri più ispirati con 20 punti a testa. Ora l'ultimo giro in casa della Dinamo Brindisi che proverà in extremis a salire sul podio, azzerando le due lunghezze di ritardo ed il meno 9 dell'andata sicura del sesto posto la nuova palla canestro Monteroni che regola Vieste per 91 a 60 con un Ghiè arrivato in settimana da Lucera, miglior realizzatore della sfida con 21 punti. Una sconfitta che non preclude ai garganici la qualificazione ai playoff che passerà dallo scontro diretto contro Mesagne caricata a mille dal roboante successo Casalingo su Trani per 117 a 42 post-season, certo per la Valentino Castellaneta ottava Corsara ad Altamura per 83 a 69 con 21 punti di Labovic.